Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, come artista sei un artista completo, cioè fai tante cose, però forse questa è una domanda che forse qualcuno te l'ha fatta in passato o nel tempo forse ti è stata anche fatta, ma se dovresti descrivere chi è Luca Bonaffini, come lo descriveresti? Ma io faccio molta fatica a descrivermi perché siamo tutti bravi a parlare del meglio di noi stessi, ma non di noi stessi. Allora, io visto che sono sempre stato un pessimo commerciale, un pessimo venditore, faccio molta fatica ad espormi in vetrina e soprattutto a mettere in vetrina il Bonaffini da indossare. Per cui vado a leggermi le biografie, i commenti degli altri, le opinioni, le considerazioni, parlo artisticamente ovviamente, non umanamente e non per quello che è il mio pensiero di fondo, che insomma la mia identità ce l'ho, la conservo, però mi piace mettermi, diciamo così, nelle orecchie, nella voce, nei sentimenti di coloro che sapientemente sanno descrivere quello che osservano, quello che sentono, quello che appartiene, diciamo, al background, anche a volte invisibile, di un artista. E allora, se io mi devo descrivere un po', mi piace descrivermi con le parole di Mario Bonanno, che ha scritto una mia bellissima biografia, un uomo eccezionale, ma anche tanti altri giornalisti come Fabio Antonelli, come altri che potrei, insomma, citare continuamente, Alessandro Sbarbada, che è un amico, anche uno scrittore, ma un giornalista, però è scrittore, oppure i miei collaboratori stessi, da Maurizio Ferrandini a Benedetta Zibordi, Betta Zicchia, una scrittrice anche lei, Lucila Corioni, Roberto Padovan, i miei amici come Flavio Oreglio, quelli che sono stati come Pierangelo Bertoli, Claudio Lolli, a loro mi piace affidare la mia, diciamo così, la descrizione della mia splendida disorganizzazione artistica. E a questo punto io direi già, come nasce questo nuovo lavoro, che è comunque un lavoro, oltre che diciamo che è un minimal, perché è un album voce e chitarra, soprattutto voce reale, cioè non ci sono correzioni, è una voce, ma quando nasce abbiamo capito che forse questo progetto era un po' che te lo portavi dietro, abbiamo la sensazione? Allora, io il 28 ottobre del 2022 compierò i miei primi 60 anni e questa cosa nacque intorno praticamente ai 19, a cavallo tra i 19 e i 20 anni, quindi sono esattamente 40 anni che quest'idea mi balenava per la testa, idea che è diventata poi un progetto scritto, che poi è diventata un'idea su alcune canzoni, poi è diventato un concept che non ho mai definito, rifinito, concluso, inizialmente di otto brani come le fiabe di Perrault, come le fiabe stesse di cui parleremo dopo, e oggi è diventato un album di 12 brani che contiene un po' tutto quello che è il manifesto, lo dico con umiltà, Bonafineano, cioè il manifesto dei miei 40 anni di attività musicale, con alcune punte in alto, alcuni picchi di carriera, quindi di vera e propria esposizione pubblica, pertanto anche con brani di riscontro, di consenso e di successo, e altri invece momenti più sommessi, più silenziosi, più di ricerca, che appartengono a tutto quello che è il percorso cantautorale che va a compimento e a completamento di tutta quella che è stata la mia attività. Nel 1982 io addirittura ero un giovane disoccupato iscritto all'Università, pedagogia con indirizzo psicologico, a Magistero Verona, io sono mantovano di origine, e questo baldo ricciolone che adesso vedi imbiancato è un po' senza i capelli immaginabili, ecco, io mi ricordo che allora con la mia chitarra alternavo momenti appunto di studio a quelli che erano di composizione, a quelli che erano i lavori saltuari, ad esempio tre mesi in biblioteca, quei tre mesi furono importantissimi perché io mi ritrovai circondato, ho avuto la fortuna di lavorare nelle terziane di Mantua, dove ci sono libri antichissimi e di grande spessore, da letteratura originale e originaria, quindi una cosa meravigliosa, e mi ritrovai anche le fiabe in francese di Chaspero, Le Conte de Mammerlois, i racconti di Mamma Oca, che contenevano poi le versioni delle fiabe originali anch'esse, scritte alla corte del Re Sole nel 1600, e quindi con un significato ben diverso da quello che noi avremmo ereditato e trasmesso poi. La fiaba allora era una specie di racconto noir, di racconto dell'orrore, diremmo oggi, quindi con degli spunti gotici e a volte purtroppo di temibile cronaca contemporanea da allora, e quindi per cui troviamo il piccolo cappuccio rosso, che in realtà è una storia di estrema violenza nei confronti del bimbo, cioè la morale è non accettare caramelle dagli sconosciuti, troviamo delle altre cose come Barba Blu invece che una specie di serial killer, e allora io che cosa ho fatto? Nel corso del tempo, prima con un po' di ingenuità, ma di spontanea, ingenua, buona fede, ho elaborato queste fiabe un po' come faceva Edoardo Bennato, come si facevano nel musical negli anni 70, di tentativo di importazione nel mondo del cantautorato, quello che era il mondo della letteratura, solo che loro l'avevano fatto in maniera geniale ed eccellente, io ero molto giovane, piano piano maturando un album mio, cioè arrivando a un Luca Bonaffini che con mille futuri, anzi con un futuro unico ai ritorni, quindi per parafrasare il ritorno al futuro, si è ritrovato praticamente ad attingere a queste bellissime cose, però trasformandole in canzoni che hanno un significato sociale, qualche volta voglio dire anche con provocazione, per cui Pollicino ad esempio in questo caso diventa Polliceverso, e che altro non è che una canzone contro il bullismo di chi ne approfitta dei più deboli, e quindi è anche una canzone in cui si intraleggono delle riflessioni sulla mancata potenza, quindi sull'impotenza anche addirittura sessuale nella nostra società, quindi più deboli, più fragili, anche perché forse i meno dotati di carattere, di capacità autoaffermativa. Poi ci sono altri viaggi, come la bella addormentata che non è nel bosco, ma è nel metro, quindi una trasposizione nella realtà metropolitana di questa grande solitudine nella ricerca di un romanticismo anacronistico che non trova invece più riscontro nel nostro tempo. Invece non è più quel gattaccio furbo che è, ma al contrario è l'uomo che si pente in qualche modo l'essere gatto nella sua astuzia che decide di non sopravvivere più sbranando, dando la caccia dei topi, ma salvandoli. Insomma, poi ci sono tante altre, tante altre, diciamo così, interpretazioni differenti di quello che è la fiaba moderna che non ha più a che vedere con la fiaba antica che prevedeva una morale, ma una storia reale che ha a che vedere con un'etica. Infatti l'album non è una favola, che poi in realtà sono tutte favole lì dentro, un pochettino raccontate, abbiamo scoperto che il lupo cattivo in fondo non è così tanto cattivo e il principe azzurro probabilmente è un po' stanco di essere troppo principe e forse troppo azzurro. Sì, è bravissimo, è proprio così, perché poi il principe, se tu ci pensi alla fine delle fiabe, arriva sempre questo principe, che si somigliano tutti, sono tutti belli, intelligenti, bravi, ricchi, dolci, gentili. Però se noi un attimo, al sommo risolutore reale, o comunque di futura eredità reale, insomma demandiamo un ruolo di essere umano, diciamole che qualche volta, insomma, se si toglie, scusami questa espressione non elegante, ma se si toglie i bellissimi stivali, magari sotto ci sono anche delle calze bucate e magari i piedini non profumano propriamente di rosa, per cui sappiamo dell'umanità, dell'essere vivente e questo va comunque a incoronarlo ancora maggiormente, perché è quest'uomo che si sforza di essere sempre migliore, però alla fine si ritrova il confronto con il mondo, a doverlo reggere tutto, per la sua perfettibilità, che purtroppo non si trasforma mai in reale perfezione. Questo purtroppo a questo principio gli va a dare, senti, e se a un certo punto io scappo con Zorro, hai capito? E abbiamo visto questa copertina dove ci ha rappresentato questo principe che sta forse camminando in questa foresta. Come nasce questa copertina? Che poi comunque rappresenta un pochettino anche l'album. Sì, lo rappresenta molto e devo dire che è un'altra interpretazione davvero bellissima e geniale di Vittorio Bustaffa, che è un illustratore che adesso insegna tra l'altro alla scuola del fumetto di Padova, ma comunque ha una storia, una biografia inenarrabile, talmente lunga e articolata, che è già la quarta opera che mi concede, che mi dona per le mie canzoni o per dei miei progetti. La prima fu Nessun è scomparso nel 2007, di cui curò addirittura un'intera mostra con un sacco di tavole e materiale per una scenografia teatrale, poi realizzò un disegno, uno schizzo in bianco e nero, che diventò poi un'illustrazione vera e propria, per una manifestazione di cui diventai direttore artistico, che si chiamava Voltarte. Poi per i miei 30 anni di attività autorale, nel 2015, 85-2015, autorale, quindi come autore discografico, mi omaggiò invece di un dipinto antologico, della quale poi io feci invece, della quale ne feci una copertina per un album intitolato Non è mai troppo Natale, pubblicazione fuori programma durante il lockdown. E infine questa cosa molto, molto, veramente sconvolgente per me, perché è riuscito a rappresentare tra fantasy e realtà, davvero, e reality quasi, un'opera di, diciamo così, di illustrazione di tutte quelle che erano le canzoni contenute in Non è una favola. Lui, tra l'altro, l'album Le Tracce Iniziali Provini li conosce dal 2006, perché gli eri feci sentire in anteprima, su cui stavo già lavorando, quindi è testimone del fatto che da tantissimi anni questo album era lì per essere pubblicato. Tu hai citato prima, soprattutto abbiamo visto un videoclip dove effettivamente c'è anche questo caso, si riporta sempre un pochino al fumetto, con tu, te che hai l'immagine praticamente ridisegnata nel, nel, quando, quando nasce l'idea di questo videoclip, come si è sviluppata e poi come è cresciuta per arrivare poi alla fine di questo, beh, comunque un bel video. Guarda, è nato proprio in maniera quasi spontanea nel, in poche, pochi giorni a una settimana prima dell'uscita dell'album, tanto più che non è stato distribuito, come di consueto dalla mia etichetta, non è stato divulgato da Believe Digital, ma verrà divulgato più avanti a settembre, ma abbiamo voluto metterlo subito su un canale YouTube, su quello dell'etichetta discografica, così che dalla sera stessa, fosse dalla sera stessa dell'uscita dell'album, fosse reperibile su YouTube e visibile, per regalarlo proprio ai nostri amici, visitatori, ascoltatori. il tema in realtà è quello dei fiori, questa immensa stanza floreale tra disegno proprio tra disegno quasi tra acquarello, no? E cose volanti e animazione, quindi una diciamo è proprio un modo per descrivere la bellezza, ma anche la sofferenza che porta a questa bellezza nella sua nascita e la sua crescita, soprattutto quando un fiore bellissimo sta per crescere e magari improvvisamente o per motivi di forza maggiore o di forza minore questa crescita viene fermata, bloccata. E allora c'è questo racconto mio personale fatto devo dire con mezzi di fortuna che è stato poi invece raccontato in maniera eccellente sempre dal Maurizio Ferrandini che citavo prima collega cantautore art director e anche videomaker e consulente comunque di tutta quella che è la parte grafica che immediatamente ha voluto realizzare questa cosa con me e per me ottenendone un successo sempre minimale spontaneo ma molto molto emozionante. Prima hai citato diversi nomi nella tua carriera e hai lavorato e ho collaborato con tanti artisti hai fatto diversi nomi tra cui Pierangeli Berto che abbiamo detto ma hai detto anche Neck Fabio Concato allora intanto prima cosa viene spontanea la domanda per un ragazzo abbastanza giovane ma non troppo vecchio qual è il ricordo più bello di Bertolt perché io l'ho conosciuto con Muso Duro la canzone che poi lui scrisse raccontandolo al suo aneddoto lui ogni volta che presentava la canzone diceva sai il discografico mi disse che io non ero più dal tempo ad atto i miei tempi erano passati e poi scrisse a Muso Duro e probabilmente lo feci di mettere sognando dicendo forse è stato quel caso ma che qual è il momento più bello che ricordi di tutto quel periodo con Pierangeli Bertoli ma il mio il momento più bello è sempre quello dell'inizio quando tu senti che sei dentro una cosa e ti sembra di viverlo davvero come in una favola ecco in questo caso come in un film quella è una storia proprio che potrebbe benissimo essere raccontata da qualche sceneggiatore in un in un film perché insomma io ero proprio un ragazzino anche devo dire poco capace di furbizia non bravo come dicevo prima vendermi e l'incontro con Pierangeli fu l'incontro uno degli incontri più belli più sani di tutta la mia vita perché li portai come accade proprio nelle storie che noi leggiamo o che vediamo dei grandi del materiale e lui lo accolse lentamente piano piano facendomi maturare sia come persona che come artista lo accolse facendone di quel materiale materiale di grande successo tanto più che nel giro di breve tempo io mi ritrovai sui grandi palchi firmando successi come chiama piano così nasce una canzone dal vero insomma canzoni che appartengono sicuramente alla sua storia di cantautore ma anche alla storia della musica del vinile degli anni in cui il vinile contava e poi con il boom di spunta la luna dal monte del quale io comunque sono stato testimone reale di nascita quindi nessuno potrà mai dire quella canzone non l'ha scritta lui perché io l'ho visto scrivere anzi addirittura facendogli da specchio come tu fai ora da specchio a me e inducendola a dire quello che non avrebbe probabilmente mai detto se non l'avesse raccontato nessuno in tutta una notte cioè la notte del 6 gennaio 1991 per cui diciamo che i momenti bellissimi non belli bellissimi con Bertoli sono tanti forse un po' troppi da ricordare addirittura in tempo in tempo reale però ti dico gli altri nomi hanno avuto sorti diverse cioè con Lolly ad esempio c'è stata una collaborazione più temporanea per un breve tempo anche se è stata importante perché lui ha lavorato ad un mio album regalandomi delle cose eccezionali e ha anche fatto una notte introduttiva della mia biografia quindi è una cosa meravigliosa quindi oltre ad aver scritto e cantato insieme a lui insomma c'è stato anche questo suo supportarmi fino alla fine povero Claudio povero caro Claudio poi e tante altre collaborazioni ad esempio quella con Dario Gai e Enrico Ruggeri col quale ho scritto questo spettacolo allora contro contro l'omofobia di questa storia appunto di quest'artista che si chiama Dario Gai che è un nostro illustre collega che ha fatto delle canzoni scritto delle canzoni stupende e è stato prodotto da Enrico e io e Enrico abbiamo scritto questo spettacolo su di lui che ho diretto e prodotto io quindi anche Enrico Ruggeri ci entra in qualche modo insieme a Dario lungo il mio percorso poi vabbè tu citavi Neck come Dio Dato come Grazia di Michele Sergio Scrilli tutti questi anche loro hanno Fabio Concato hanno cantato Chiama Piano e quindi voglio dire facendola diventare una canzone molto 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 condivisa da mondi diversi quindi dal da un pop melodico struggente fino alla ballata d'autore una cosa bella e anche personaggi come Flavio Aurelio invece col quale io ho avuto un lungo passato dal 1985 del quale sono ancora coautore e coproduttore noi amiamo il genere di Flavio Aurelio quindi l'abbiamo anche conosciuto ci siamo divertiti perché effettivamente racconta quello che è la realtà dei fatti ma poi in realtà tu sei produttore escografico regista teatrale perché anche regista teatrale sei scrittore cioè effettivamente a questo punto inizialmente avevo detto un artista l'arte si manifesta in tutte le forme scritto cantato dipinto ma in questo caso ti mancherebbe solo la pittura forse penso che io da bambino facevo fumettista e non era a merito mio ma di mio padre che era un artista insegnante di storia dell'arte e pittore uno straordinario pittore che avevo studiato a Brera mia madre aveva una galleria d'arte e mio fratello era architetto per cui quella parte lì io mi sentivo davvero il pollice verso il pollicino rovesciato perché dicevo porca miseria io sono in mezzo a questi super dotati dell'arte e dico ma cosa vado a fare anch'io i disegni e dopo sarò sempre il figlio di Giorgio Bonafini e invece la soddisfazione maggiore fu quando lo presero per strada e gli dissero non più non dissero a me tu sei il figlio di Giorgio ma dissero a lui ah ma tu sei il papa di Luca e questo accadde grazie alla mia scelta un pochino più popular di dedicarmi alla alla canzone però la canzone per me è stato un modo sempre non solo di far musica perché quando io sento i grandi musicisti i veri musicisti io mi mi emoziono tantissimo mi commuovo davvero molto ma era per raccontare delle cose che già mi piaceva raccontare a voce scrivere perché fin da bambino anche mi piaceva molto scrivere provare insomma e allora ho cominciato a scrivere le canzoni perché mi piacevano i cantautori sia quelli internazionali da Bob Dylan ai padri no Leonard Cohen ma potremmo citare poi la la grande canzone dei più pop come Elton John o come altri ma anche poi i cantautori più ideologici cioè quelli dell'America Latina come Pablo Milanese oppure Sicco Barche di Olanda i melodici Gaetano Veloso eccetera eccetera ma anche Manuel Serrat o Brassen tutti questi personaggi che io ho ascoltato personaggi non personaggi autori i Sansonnier cantautores songwriter che ho ascoltato fin da ragazzo a fianco dei cantautori italiani maturando un genere mio genere che però non mi è bastato quando volevo scrivere delle canzoni lunghe un libro e allora ho cominciato a scrivere libri come se fossero delle canzoni lunghe dopodiché mi piaceva l'idea di raccontare a teatro dei contenuti che non fossero raccontabili in tre minuti allora ho scritto dei testi teatrali insomma alla fine io tutto sommato credo che se dovesse esserci un'unica parola che mi racchiude non sarebbe artista che mi piace molto ringrazio non sarebbe regista non sarebbe scrittore non sarebbe ma sarebbe autore autore di canzoni autore di testi letterari quindi autore di libri autore di testi teatrali autore perché no di altri autori o editore e quindi colui che sponsorizza altri autori per cui io anche quando faccio il produttore l'editore io sono comunque autore insieme a loro perché laddove non partecipo con la loro capacità creativa la produco e quindi me ne faccio artefice e a questo punto ti chiederei l'emozione che hai provato l'emozione che si prova da cantare dal vivo quando si apre la quarta platea e c'è davanti un pubblico che è emozionato triste piange che vive la tua canzone e ti emana quell'energia ma nello stesso tempo l'emozione che hai provato quando ti sei trovato dall'altra parte del palco perché davanti c'era la tua opera teatrale quali le due esperenze che ci sono di emozioni e che sensazione hai provato? ma essere sul palco sei più coinvolto nel senso che devi avere una grande fermezza e un grande amore per chi ti ascolta perché lì non sei proprio affatto spettatore di te stesso mentre nell'altro caso diventi spettatore di se stesso adesso stiamo anche producendo dei format tv sempre a tema musicale cose del genere ti vedi lì e dici ok adesso sono tutte e due sono come sei tu in questo momento sono io per cui dici ma guarda essere invece semplicemente registi e vedere qualcuno in diretta registi teatrali che ti mette diciamo così che mette in atto che mette sul palcoscenico una cosa che tu puoi vedere è straordinario perché per un attimo diventi anche più critico non ti perdoni nulla no? perché dici porca miseria adesso sono anche spettatore ma dico forse quel tempo lì è un po' troppo lungo l'altro un po' troppo breve quel dialogo lì o quel quel monologo lì andrebbe migliorato insomma si diventa ancora più critici perché sei proprio dall'altra parte e e vedi uno spettacolo per cui ragioni non come critico teatrale ma come spettatore e lo spettatore è quello che fa è il vero autore dello spettacolo e c'è andiamo comunque a concludere c'è una domanda che ti hanno fatto i tuoi le persone che inizialmente hanno ascoltato il tuo concerto e proprio alla fine del concerto ti si sono avvicinati inizialmente e ti tubanti forse anche quella domanda che in realtà pensi che ti potessero fare ma in realtà non te l'hanno fatta forse per paura per timidezza o quella domanda che ti è stata fatta che ti ha lasciato un pochino sorpreso ma alla fine contento di averla ricevuta ma guarda a me le domande sinceramente piacciono tutte perché mi danno la possibilità di partire da lì come spunto per dare altre cose dare di più cioè non tanto per dare delle risposte a chi mi chiede delle cose ma per darle anche a me perché è facile rispondere a domande che che prevedi perché ti sono già state dette oppure domande diciamo così che vorresti ti venissero fatte perché così è già la risposta pronta credo che la bellezza del poter dialogare stia proprio nella domanda in attesa quella che non sapevi e questo ti mette anche alla prova con te stesso non soltanto con l'interlocutore con il pubblico per cui io non ho ricordi di domande imbarazzanti ma solo di domande estremamente difficili quanto interessanti io andando ti ringrazio per il racconto che ci hai fatto del tuo mondo perché è tanto abbia detto è vasto però è molto affascinante perché in fondo non si smette mai di lavorare ma soprattutto non si smette mai di crescere e migliorare nel tempo e quindi noi ti ringraziamo il reality tutti questi 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 talent anche Spotify ma è un vantaggio o uno svantaggio per la musica? no è un vantaggio è un vantaggio perché noi non sappiamo usare i mezzi gli strumenti cioè oggi noi siamo in streaming per questa radio eccetera è un vantaggio o uno svantaggio? è un vantaggio cioè la possibilità di aggiungere qualcosa spesso sono le persone che si fossilizzano in passato dividono il passato dal presente dal futuro spaventandosi del fatto che comunque le cose siano separabili la somma di queste tre cose si chiama tempo e quindi il tempo ha le sue i suoi dispositivi ha i suoi mezzi i suoi strumenti non abbiamo il vinile ok possiamo stamparlo lo stesso e tenerlo come oggetto però quello che conta è che noi la musica oggi possiamo ascoltarla in questo grande contenitore che è online come vogliamo quando vogliamo quei mezzi che vogliamo nella definizione che vogliamo io voglio di ascoltarmi James Taylor o ascoltarmi Nick Cave o ascoltarmi Van Allen o ascoltarmi il povero Van Gelis appena scomparso ascoltarmi qualunque cosa io vado o su YouTube o su Spotify su iTunes e al 90% sono certo di trovarlo una volta invece potevi andare in un negozio di dischi di Harlem che cavolo ne so io o comunque di New York cercare Ray Charles il primo 45 stampato in 2000 copie sto dicendo una cosa così per dire e non trovarlo oggi invece possiamo trovare il senso quindi non trovi più l'oggetto ma la musica la trovi ancora è positivo che dire ragazze un saluto veramente di cuore a tutte quante a tutti quanti le amiche gli amici le ascoltatrici gli ascoltatori quelli che vedono quelli che sentono e soprattutto quelli che usano dei mezzi straordinari come quello che abbiamo oggi noi due per continuare a farci vivere e a condividerlo con gli altri grazie e vogliamo ricordare degli indirizzi dove poter seguire nei social il sito internet Spotify e tutto il resto ma il sito internet allora io non ho più un sito mio personale perché non mi serviva però ho Long Digital Playing che è evocativo del Long Playing ed è il sito longdigitalplaying.com quello dove diciamo è il sito il quartier generale di tutte le nostre iniziative poi c'è ldpvision.com che è la parte diciamo così più legata alla comunicazione di questa etichetta discografica che è diventata anche anche una divisione di carattere creativo comunicazionale appunto e dopodiché che dire Wikipedia tutte queste cose qui le pagine di Facebook come Luca Bonafini ci sono mi trovate e probabilmente mi trova qualcuno anche come profilo perché insomma mantengo sempre una cinquantina di posti che vanno e vengono perché tanto non mi interessa avere profilo 2 profilo 3 profilo un profilo sufficiente l'importante è che ci siano le persone giuste e noi ringraziamo anche il tuo addetto stampa che è molto una persona molto professionale da Lucilla grazie studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti